Buonasera a tutti e bentornati al TG di AC Milan Inside. Rabiot ha affermato che tutte quante le richieste di mercato verranno prese in considerazione dopo Euro 2024. Nonostante questo però, i contatti tra il Milan e la madre agente Veronique continuano. Galliani è al lavoro per portare definitivamente Daniel Mallini al Monza. Voi che cosa ne pensate di questo dunque sicuro addio di Daniel al Milan? Siete d'accordo oppure gli avreste dato comunque sia un'altra opportunità all'interno della squadra? Tra gli addi si aggiunge un nuovo nome, ovvero quello di Florenzi. Il suo contratto sarebbe in scadenza nel 2025, però con molta probabilità le strade tra i rossoneri e Florenzi si divideranno quindi quest'estate. Ci tengo a dire la mia personalmente, ne sono molto dispiaciuta. Per quanto riguarda Zirze sembra che non ci siano novità se non sempre il Manchester United in vantaggio rispetto al Milan. Queste sono tutte quante le notizie di oggi e io come al solito vi invito a seguirci in tutti quanti i nostri social per restare sempre aggiornati e sapere sempre le più importanti novità di giornata.